sono partiti gli amici di Cisunaga Ulori Iva, Mambo Serra e Matteo Stira un ponte tradizionale anche per loro e poi avete visto questo è il ponte tradizionale fino agli anni 60 poi gli acrobati di Oristano hanno diventato quello che avete visto poc'anzi con Filippo Vigili che è un campo acrobatico cioè due cavallieri finiscono